il tuo personaggio aiuta moltissimo l'umanità Ben è una legenda, non è vero, Ben è un po' diverso, è un personaggio completamente diverso da tutti quelli che ho interpretato in passato e in precedenza e forse è il primo personaggio del quale non sono proprio sicuro di condividere completamente le scelte È una grande storia d'amore, potresti definirlo anche una sorta di tragedia greca? Sì, è vero, è vero, dipende da dove sei in tua vita, il film è una storia di un uomo selfless, è una storia di tragedia o è una storia di amore romantica, quindi dipende davvero da come guarda il film e da come guarda la vita Ma in realtà dipende da tu come spettatore a che punto sei nella tua vita, perché lo puoi vedere come un uomo terribilmente egoista oppure che quindi vive un determinato tipo di vita, di tragedia, oppure lo puoi vivere come una fantastica romantica storia d'amore Grazie mille, grazie mille, grazie mille Grazie mille